san sergio martire di cesarea è diventato popolare in occidente grazie a una passio latina che narra il suo martirio durante le celebrazioni di giove al tempo di diocleziano i cristiani di cesarea furono convocati per partecipare ai riti pagani sergio era un anziano magistrato che aveva abbandonato la toga per fare l'eremita al suo arrivo i fuochi dei sacrifici si spensero sergio spiegò che gli dei pagani nulla potevano davanti all'unico e vero dio adorato dai cristiani arrestato e condotto davanti al governatore venne condannato e decapitato era il 24 febbraio 304 il corpo del martire venne trasportato in spagna nella città andalusa di ubeda